Ah, Giova! È stata un'emozione da brividi! Cosa è successo di così emozionante, Moretti? Prof, ho fatto il provino di cui le avevo parlato. Bene, e com'è andata? Non lo so ancora, prof. Pubblichereanno i voti stasera sul sito ufficiale della squadra. Sono voti da 1 a 10, con la virgola. Cioè, che ne so, puoi prendere 7.6, 8.3. Da 8 in poi passo le selezioni. Bene, quindi sono numeri reali. Ed è un intervallo aperto a sinistra o è chiuso? Prof, ma io parlavo di calcio. Anche io, Moretti. La domanda è, se prendi 8.0, cioè esattamente 8, sei passato oppure no? Serve 8.1 oppure l'8.0 è sufficiente? Mi sono perso. Bene, allora riguardiamo insieme cosa sono gli intervalli quando si parla di insieme delle soluzioni di una disequazione. Così capiamo che la matematica può aiutarci anche nel nostro quotidiano. Ricordiamo innanzitutto che una disequazione è una disuguaglianza in cui compaiono espressioni letterali per le quali cerchiamo i valori di una o più lettere, dette incognite, che rendono la disuguaglianza vera. Facciamo un esempio. Se avessimo x meno 7 maggiore di 0, allora potremmo applicare il primo principio di equivalenza, che ci dice che, data una disequazione, si ottiene una disequazione ad essa equivalente, cioè avente lo stesso insieme di soluzioni, aggiungendo a entrambi i membri uno stesso numero o una stessa espressione letterale. Quindi possiamo sommare a entrambi i membri più 7, ottenendo x meno 7 più 7 maggiore di 0 più 7, cioè x maggiore di 7. Ecco perché spesso diciamo che il meno 7 può passare al secondo membro, cambiando di segno. Bene, in questo caso diremo che S, cioè l'insieme delle soluzioni della nostra disequazione, è dato dai valori di x appartenenti ad R, tali che x è maggiore di 7. In questo caso, cioè, l'intervallo delle soluzioni è un intervallo aperto illimitato superiormente, perché valgono tutti i valori superiori a 7 fino all'infinito, ma con 7 escluso. Graficamente lo possiamo rappresentare in questo modo. Lo ricordavo, prof! Bene, facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere 5x maggiore o uguale a 1. Applicando il secondo principio di equivalenza, che ci dice che, data una disequazione, si ottiene una disequazione ad S equivalente, cioè ad ente lo stesso insieme di soluzioni, moltiplicando o dividendo entrambi i membri per uno stesso numero positivo o una stessa espressione letterale, oppure ancora, moltiplicando e dividendo entrambi i membri per uno stesso numero negativo, ma cambiando il verso della disuguaglianza, in questo caso ci è comodo dividere entrambi i membri per il numero positivo 5, perché vogliamo isolare la x. Dunque 5x diviso 5 maggiore o uguale, perché essendo il numero positivo non dobbiamo cambiare verso A1 diviso 5, cioè semplificando x maggiore o uguale a un quinto. Bene, in questo caso diremo che S, cioè l'insieme delle soluzioni della nostra disequazione, è dato dai valori di x appartenenti ad R, tali che x è maggiore o uguale a un quinto. In questo caso, cioè, l'intervallo delle soluzioni è un intervallo chiuso, illimitato superiormente, perché valgono tutti i valori superiori a un quinto, fino all'infinito, con un quinto incluso. Generalizziamo, per capire quali sono tutti i casi che si possono presentare, e riassumiamo tutto in questa tabella. Nel primo caso potrà ad esempio succedere di avere un insieme di soluzioni del tipo x maggiore di A, con A appartenente ad R. In questo caso, come abbiamo visto, avremo un intervallo aperto, illimitato superiormente, e lo rappresentiamo così. Nel secondo caso potremmo avere x maggiore o uguale ad A. In questo caso, come abbiamo visto, avremo un intervallo chiuso, illimitato superiormente, così rappresentato. Allo stesso modo potremmo avere i due casi opposti, cioè x minore di B, e quindi un intervallo aperto, illimitato inferiormente, oppure x minore o uguale a B, e quindi un intervallo chiuso, illimitato inferiormente. Poi potremmo trovare dei casi in cui, ad esempio, x è compreso tra A e B, con A e B reali, e con A minore di B. In questo caso si parla di un intervallo aperto, perché gli estremi dell'intervallo sono esclusi, e si rappresenta in questo modo. Oppure ancora, potremmo trovare dei casi in cui, ad esempio, x è maggiore o uguale ad A ed è minore o uguale a B, e, viceversa, in questo caso si parla di un intervallo chiuso e si rappresenta in questo modo. Oppure possiamo avere il caso x maggiore di A e minore o uguale a B, e in questo caso si parla di un intervallo aperto a sinistra, perché il valore pari ad A è escluso, e si rappresenta in questo modo. Oppure, infine, possiamo avere il caso x maggiore o uguale ad A e minore di B, e in questo caso si parla di un intervallo aperto a destra, perché il valore pari a B è escluso, mentre A è incluso, e si rappresenta in questo modo. Quindi, Moretti, nel tuo caso abbiamo due possibilità. Se con 8.0 passi la tua selezione, allora le tue soluzioni sono date dall'insieme S costituito dai valori di x, tali che x è maggiore o uguale ad 8 e minore o uguale a 10, cioè avremmo un intervallo chiuso. Se invece con 8.0 non passi, allora l'intervallo delle tue soluzioni è aperto a sinistra, cioè 8.0 è escluso. Chiaro adesso?